Il kayak marino è un'imbarcazione abbastanza direzionale, nonostante ciò possiamo farlo girare agevolmente eseguendo le giuste manovre. Per fare questo dovremo variarne l'assetto inclinandolo su un fianco in modo che la chiglia esca fuori dall'acqua e l'imbarcazione diventi più manovrabile. Per una giusta variazione d'assetto andremo ad utilizzare l'appoggio basso e nella manovra saranno importanti l'inclinazione della pala e l'utilizzo del corpo, comprese le gambe, per generare quelle forze necessarie a far girare l'imbarcazione. La manovra sarà ancora più efficace se preceduta da una pagaiata circolare. Grazie. 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 Grazie.